Archiviato il filotto di vittorie nelle ultime gare casalinghe, che valso l'allungo a più 8 sulla seconda, la palla a mano con Bersano tornerà in trasferta nel weekend di Pasqua contro il cingoli del tecnico nocese Sergio Palazzi. La squadra marchigiana lotta nei bassi fondi della classifica, ma come ha dimostrato anche nell'ultima gara sul campo del Sassari, dove è riuscita a strappare un pareggio avendo anche la palla della vittoria finale, proverà a conquistare punti in tutte le partite a disposizione per cercare di raggiungere la permanenza in Serie A. Per la squadra del presidente Peppino Roscino invece non ci sono alternative, solo l'obbligo di vincere per consolidare il vantaggio sulle inseguitrici e conquistare prima possibile il tanto sognato tricolore. Proprio il cingoli è stata l'ultima avversaria stagionale contro la quale i biancoverdi hanno potuto beneficiare dell'apporto, anche se parziale del Palasan Giacomo, che in una situazione del genere si sarebbe rivelato infuocato. Fischio d'inizio sabato 3 aprile alle ore 18, serverà invece il turno di riposo la palla a mano Fasano, che l'8 aprile finalmente tornerà in campo dopo i tantissimi casi Covid che hanno imposto alla squadra di Ancona uno stop di oltre un mese e mezzo.